Juventus, la parola a Milan TV. Grazie Laura, buongiorno al nostro allenatore, alla vigilia di Milan-Juventus appunto. Mister, la Juventus ha una partita in meno, ma il Milan si presenta comunque a questa partita in questo momento con 10 punti di vantaggio. Che Juventus si aspetta al riguardo? Perché la Juventus quest'anno le partite importanti, come ad esempio al Camp Nou contro il Barcellona, non le ha sbagliate praticamente mai. Che Juventus si aspetta? Quella che magari ha perso qualche punto in campionato o quella implacabile delle partite che contano? Aspetta la Juventus in crescita, la Juventus che senza dubbio ha dovuto cominciare comunque un nuovo percorso e ci sta cominciando un nuovo percorso di perdere qualcosina, ma rimane una squadra molto forte con grandissimi giocatori, ben messi in campo, difficile da prendere, nel senso che se la fai palleggiare troppo poi ti arrivano molto vicino all'area e hanno giocatori di qualità che ti possono farmare, se li vai a prendere possono avere velocità, qualità e verticalizzazione improvvisa, quindi sarà una partita anche da affrontare in modo molto lucido dal punto di vista tattico, ma Juventus che è pronta, che è forte, affronterà un Milan pronto, un Milan forte. Ecco mister, quale di queste tre statistiche rappresenta un po' di più la foto della sua squadra? Il record di imbattibilità delle 27 partite, le 17 partite con almeno due gol segnati in ogni partita, le 17 partite in trasferta senza una sola sconfitta, quale di questi tre numeri è più suo, è più del Milan di adesso? Credo che siano dati importanti per quello che abbiamo fatto sino oggi, che testimonia la qualità del nostro lavoro, la qualità dell'organico che ho a disposizione, ma che non ci deve far cambiare il nostro obiettivo, che ci siamo sempre, secondo me siamo sempre stati brevi a darci dei piccoli obiettivi e domani il nostro piccolo obiettivo è la partita con la Juventus, è cercare di dare il meglio, di dare il massimo, cercare di vincere. Sky Sport. Ministro, buongiorno. Buongiorno. Lei ci tiene sempre a dire, e giustamente aggiungo io, alla quindicesima, sedicesima, non è partita scudetta, non è partita, è Mila Juve, basta il titolo per definirla. Gazzidis che si presenta alla vigilia, i tifosi comunque non so se segui social, ma sul web in generale parlano di questo Milano Juventus. La vive anche lei come vigilia abbastanza strana e soprattutto alla squadra, lo ha detto e lo dirà, ve lo siete meritati una partita, perché non era ipotizzabile un anno fa una partita così carica. Ma credo che hai detto la cosa giusta, cioè Milano Juventus rimane Milano Juventus per la storia, per il blasone dei due club, per quanto hanno vinto, per l'importanza delle tifoserie e il numero dei tifosi che abbiamo. Quindi questo che sia una partita importante lo sappiamo, ma noi stiamo, hai detto anche che siamo solamente alla quindicesima giornata di campionato, la nostra è una maratona. E nella maratona non puoi pensare a fare solamente uno scatto, anzi se fai uno scatto poi non arrivi alla fine. Al massimo possiamo farlo a lungo, ma è una maratona, quindi è una partita, non è una partita della vita, non è una partita che sarà decisiva, è una partita importante. Questo sì contro un avversario molto forte, che sta bene, ma stiamo bene anche noi, quindi vogliamo affrontarla al meglio, vogliamo cercare di vincere, vogliamo cercare di giocare bene, sapendo che dentro la partita ci sono sempre tante difficoltà, domani probabilmente le difficoltà saranno anche maggiori del solito, visto la qualità dei nostri avversari. La seconda e ultima per quanto mi riguarda, se ci fa il solito aggiornamento, ieri un po' i tifosi del Milan e anche noi cronisti forse c'eravamo un po' illusi con quel TikTok di Ibra che potesse magari sorprenderci e tornare in campo, probabilmente invece no, e le chiedo se l'ha trovato in casa il vice Ibra, perché Raffaeleao ha realizzato 5 gol quest'anno e casualmente tutti e 5 quando è stato utilizzato da prima punta. Non gioca come Ibra, non gioca come Rebic, ha un modo tutto suo, ma vuole vedere che l'ha trovato proprio in Leao, il giocatore giusto, per essere l'altro Ibra. Ho rimproverato Ibra per le immagini che ha messo lì su TikTok, perché dopo le loro immagini mi avete tempestato di chiamate e messaggi per sapere se Ibra poteva giocare. Ibra sta sicuramente meglio, sta lavorando bene, questa è la cosa più importante, ma non sarà della partita domani. Per quanto riguarda Rafa, sta crescendo tanto e chiaramente non ha le stesse caratteristiche, anzi, ma deve avere alle sue, che sono importanti per la squadra, che dobbiamo cercare di capirle e anche di sfruttarle nel modo giusto e questo anche ci fa capire che con ragazzi così giovani e talentuosi bisogna dargli il tempo di crescere, di capire le certe situazioni, di trovare anche la posizione giusta, di capire gli spazi. L'importante è vedere nei ragazzi la volontà di crescere, la volontà di migliorare giorno per giorno e questa disponibilità c'è, c'è sempre stata, quindi questa è la cosa importante. Andiamo da Mediaset, Raimondi. Ciao Stefano, chiedo se questa può essere anche l'occasione, è vero c'è stata quella vittoria a luglio 4-2, rotondo, importante, ma può essere, proprio sulla scena di quello che sta facendo il primo posto in classifica, l'occasione anche per riscattare. Negli ultimi anni i tifosi rossoneri hanno patito molto i croci con la Juve e soprattutto questa sfida con una grande battuta da Lazio, battuta a Napoli, insomma è l'occasione anche per dire siamo tornati, questo Milan fa davvero paura e non ha paura di nessuno. Ma tutte le partite sono occasioni per dimostrare i nostri valori, poi è chiaro che più la qualità e il valore dell'avversario sale, più deve salire il tuo livello di prestazione, noi dobbiamo pensare e concentrarci solamente alla partita, cercare di far salire il nostro livello perché gli avversari sono di qualità, gli avversari sono di esperienza, sono anni che comunque giocano insieme, che lavorano insieme, che vincono, e noi stiamo facendo il nostro percorso e stiamo dimostrando di potercela giocare, l'importante è quello e poi giocheremo per vincere, questo fuori di dubbio come abbiamo sempre fatto fino ad oggi, pensando di mettere in campo domani la migliore prestazione possibile. Francesco Erocchi, Larai Ciao mister, buongiorno Ovviamente capisco la prudenza, è una partita davvero importante, però di fatto la sensazione che si ha è che qualcosa è cambiato nella gerarchia del campionato, dieci punti, sono tanti, insomma il Milan questa volta è la Juve, dopo nove stagioni è la Juve che deve rincorrere il Milan, quindi io le chiedo, ma è davvero cambiato qualcosa? Per noi è cambiato, per noi è cambiato perché credo che rispetto alla stessa giornata dell'anno scorso abbiamo fatto 17 punti in più, e quindi è chiaro che il livello della squadra, il livello delle nostre prestazioni, il livello dei nostri risultati è cambiato, e questo ci dà ancora più fiducia, ancora più convinzione che la strada che abbiamo intrepreso è quello giusto, però ripeto, ma non è, sembra che io voglia smorzare gli entusiasmi e non essere ambizioso, non è assolutamente così, ma credo che non sia giusto alla quindicesima giornata di campionato parlare di partita decisiva, o di partita da svolto, o di partita della vita, perché tra l'altro noi affrontiamo tutte le partite come se fosse l'ultima partita che giochiamo, questo deve essere il nostro spirito e questo sarà anche quello domani, però sapendo che sarà un esame importante, sarà una sfida importante, dove dovremo dare il meglio, e poi valuteremo quello che siamo riusciti a fare. Andiamo da Alessandra Gozzini, La Gazzetta, a seguire il Corriere della Sera. Mi sentite? Sì. Eccoci. No, io volevo chiederle al mister una cosa che la riguarda più direttamente, diciamo, personalmente, l'abbiamo sempre descritta come una persona low profile, il normal one, eccetera, adesso però le farà anche a lei, insomma, un effetto strano vedere come i suoi giocatori, in pullman, in aereo, in tonino canzoni con il suo nome, come Wikipedia stessa per un lungo periodo aveva modificato i suoi dati con Stefano Pioli, non più allenatore di calcio, ma Pioli's on fire. Le fa un po' effetto questa sua nuova dimensione di uomo copertina? Le fa piacere che i suoi giocatori le riconoscano questo ruolo, non più solo paterno, ma stavolta di guida carismatica? La cosa che mi gratifica di più è sicuramente il riconoscimento del club nei confronti del mio lavoro e dello staff e la credibilità che ho nei confronti dei giocatori, questo assolutamente. Poi capisco benissimo quelli che possono essere gli umori in questo momento in positivo, come sono stati poi negativi in altri momenti o come possono tornare a seconda dei risultati, quindi questo lo vivo con molto equilibrio, con molta attenzione e se è possibile mi dà ancora più motivazione per cercare di dare ancora il meglio, di tirare fuori ancora il massimo dei miei giocatori perché ripeto siamo ancora una squadra molto giovane che può ancora crescere, quindi la concentrazione è molto sul lavoro che facciamo, è molto sulla prossima partita e meno attenzione di altre cose che poi alla fine possono cambiare velocemente come sappiamo tutti. Andiamo dal Corriere della Sera? Ciao Stefano, ti volevo chiedere questo, in giro sento dire che la Juve domani deve vincere per forza mentre il Milan ha due risultati su tre, cioè come dire che gli può andare bene anche un pareggio, allora lo chiedo a te, ma tu saresti contento di un pareggio domani oppure, come un po' penso io e come pensano un po' tutti mi sembra, la vera forza del Milan in questo momento è proprio quella di non volersi accontentare, di non porsi niente. Io credo che se tu approcci la partita pensando che il pareggio sia un buon risultato è la strada più vicina che ti possa portare alla sconfitta. Noi dobbiamo giocare nel nostro calcio, interpretare le partite con generosità, con serietà, cercare di fare la partita sapendo che se non sarà possibile dovremo soffrire, stringere i denti, ma l'approccio deve essere quello di giocare al meglio delle nostre possibilità, ci prepariamo per vincere le partite, per cercare di vincere, nella nostra testa la partita di domani è quella che proviamo a vincere, poi dopo vedremo cosa riusciremo a fare, ma assolutamente a fine partita, io sono contento a fine partita quando i ragazzi danno il massimo, quando i ragazzi danno il massimo e escono al campo senza rimpianti, senza recriminazioni su quanto potevamo dare, lì sono contento, e il più delle volte quando l'abbiamo fatto poi abbiamo portato a casa i risultati positivi. Alberto Passorella, Tutto Sport. Sì, buongiorno mister. Buongiorno. Volevo chiedere questo, domani, se non sbaglio, per la terza volta con l'Inter a distanza di sorpasso giocate dopo e le altre due volte siete scesi in campo con l'Inter davanti e siete poi riusciti a risuperarla. Da un punto di vista psicologico, o comunque anche da un punto di vista di approccio alla partita, il fatto di scendere in campo sapendo già il risultato di chi vi stava dietro e che poi ve lo siete ritrovati davanti, quanto e come influisce eventualmente? No, non influisce, perché ripeto, noi prepariamo la partita con grande concentrazione, con grande volontà e per cercare di vincere la partita, a prescindere dai risultati degli avversari, quindi onestamente poi in questo momento non è la classifica l'aspetto più importante, è più importante la singola partita, il piccolo obiettivo di domani da cercare di superare, da cercare di fare bene, poi dopo quello che sarà la classifica, ripeto, è troppo presto per guardarlo. Stefano Mancini, La Stampa. Buongiorno mister. Buongiorno. Dice lei, è una maratona il campionato, ma se il Milan non vince, non perderà lo scudetto domani, ma è possibile che lo perda la Juve? No, credo di no, credo di no, perché comunque 16 giornate sono poche rispetto alle 38 che dobbiamo disputare, quindi c'è spazio per tutti e soprattutto c'è spazio per una squadra così esperta, una squadra così forte. Ok, andiamo da Franco Ordine. Franco sei pronto, altrimenti vi chiedo. Ci sono, ci sono. Benissimo, prego. Buongiorno Stefano, volevo chiederti questo. Una delle difficoltà sulle quali vedo continui a far finta di niente è che ti ritrovi ancora una volta con un centrocampo da rammendare. Volevo chiederti, l'uomo è destinato a sostituire Tonali inevitabilmente e Krunic, ma hai pensato anche a un piano B? Sì, chiaramente, sempre. Si prepara comunque l'assetto iniziale, la strategia iniziale, le posizioni in campo dove pensiamo di limitare le qualità avversarie e dove pensiamo invece di poter sfruttare i nostri punti di forza e eventualmente anche i loro punti deboli e dopo c'è sempre nelle teste dell'allenatore una preparazione successiva, nel senso se le cose funzionano si va avanti con quel piano, se le cose non funzionano ci possono essere altri interpreti o forse altre posizioni, quindi c'è sempre anche un piano B. Salve mister, Kier dopo Benevento Milan ha dichiarato che non c'è nessuno più forte di noi, immagino che si riferisse alla forza del gruppo, allo spirito di gruppo, ma è d'accordo che nessuno in Italia è più forte del Milan? Sino oggi è stato così, nel senso che i risultati stanno dicendo che noi abbiamo fatto un percorso incredibile, nel senso che tanti punti così era difficile pensare di farli, quindi quello che ha detto Simon dopo la partita ci sta tutto, però ciò non toglie che partita per partita devi continuare a dimostrarlo e ciò non toglie che sappiamo che nel campionato italiano le difficoltà sono altissime e i nostri concorrenti sono fortissimi ci sono sette squadre in Italia di altissimo livello, di altissimo livello che si giocheranno le posizioni importanti e le posizioni importanti sono le prime quattro, perché tutte queste sette squadre vogliono arrivare almeno nelle prime quattro posizioni, credo che se la giocheranno fino alla fine, noi dobbiamo stare lì fino alla fine per giocarci. Sport Italia, Luca Cilli. Buongiorno mister, una curiosità soprattutto per quanto riguarda il mercato, perché voi siete una delle squadre più in voga in questa prima parte iniziale, volevo chiederle se la società le ha rassicurato circa l'innesto di un difensore a breve, si parla molto di Simacan, se è davvero così vicino, l'altra curiosità riguarda Conti, è un giocatore che per lei può partire? La società è qui presente tutti i giorni, i nostri confronti sono continui, il mercato è appena cominciato e la società sa che se ci sarà la possibilità di migliorare il nostro organico, di migliorarlo a livello di qualità, a livello in qualche ruolo, si farà trovare pronto, per quanto riguarda se è più vicino o meno vicino non sono io che posso rispondere, dovete fare domande ad altri, non abbiamo messo nessuno sul mercato, Conti credo che sia un buonissimo giocatore, un giocatore affidabile che ha fatto molto bene, adesso forse in questo momento forse le gerarchie sono un po' cambiate ma il calcio dimostra continuamente, io sto continuando a dimostrare continuamente ai miei giocatori che le gerarchie cambiano facilmente a secondo delle loro prestazioni, a secondo delle loro condizioni, a secondo delle scelte strategiche che facciamo di partita in partita, quindi stanno tutti bene, sono tutti pronti, a parte purtroppo gli infortunati che abbiamo e non abbiamo messo nessuno sul mercato. Andiamo da Tele Lombardia, Cuomo. Buongiorno mister, mi sembra ben delineata una spina dorsale, Donnarumma, Hernández, che sì, sono in questo campionato i migliori nel ruolo, cosa manca per poter dire davvero e per far sciogliere anche l'ambiente di Milanello e pronunciarla questa parola scudetto, perché da fuori sembra davvero che non manchi nulla? Credo che noi dobbiamo continuare a giocare in questo modo, possibilmente migliorare tante situazioni che ancora ci vedono non così precisi e quindi continuare con questa attenzione e con questa qualità. Io credo che per giocare a un certo livello servono assolutamente due caratteristiche, l'intensità e la qualità. L'intensità deve essere prima mentale e poi fisica e la qualità chiaramente nei singoli giocatori. Se manteniamo alto questi due fattori, allora abbiamo tante possibilità di continuare a essere protagonisti. Daniele Longo, calciomercato.com Buongiorno mister, nelle scorse conferenze stampa, comunque nel percorso portato avanti quest'anno, ha sempre fatto riferimento al gruppo, alla coesione e anche alla disponibilità dei suoi ragazzi. Per esempio Krulic è stato molto disponibile adattandosi in tanti ruoli. Domani è chiamato a una prova importante, in una partita importante. Cosa si aspetta dal ragazzo e soprattutto se gli dirà qualcosa in particolar modo per caricarlo in vista di una partita o così? Credo che si parte già col piede sbagliato, nel senso che è la squadra che deve interpretare bene la partita, è la squadra che deve stare bene sul campo, è la squadra che deve leggere bene le situazioni. Poi chiaramente le prestazioni del singolo possono aumentare o diminuire il livello della squadra, ma Krulic sta con noi per merito, per qualità, per caratteristiche. Deve mettere in campo le sue caratteristiche, deve muoversi insieme ai suoi compagni. Non gli dirò niente di particolare se non quelle attenzioni nel curare quei particolari che in una partita di alto livello come ieri, come di domani, possono fare la differenza. Pietro Mazzara, Milan News. Mister, buongiorno. Buongiorno. Le volevo chiedere che tipo di approccio vuole vedere la gara di domani, nel senso con il Benevento all'inizio la gara è sembrata un pochino lenta, poi pian piano la squadra si è sciolta. Invece domani ci dobbiamo aspettare un Milan più arrembante fin dal primo minuto o sarà una gestione dei 90 minuti con i giocatori che saranno chiamati a leggere le varie situazioni nelle quali accelerare o meno? Sì, io onestamente non avevo parlato con la squadra, ma mi aspettavo un inizio Benevento un pochettino così, perché comunque le soste ci sono, i giorni di vacanza comunque ci sono stati. È vero che avevamo bisogno di riposare, sicuramente nel tempo la sosta ci servirà, ma è altrettanto vero che la prima partita puoi pagare anche un approccio un po' meno intenso del solito, però credo che giustamente poi ci siamo sciolti bene, giustamente poi abbiamo lavorato molto da squadra, soprattutto in realtà numerica, abbiamo fatto una buona gara e credo che domani sera staremo meglio dal punto di vista sia mentale sia fisico rispetto a Benevento, credo che però sia una partita da leggere molto bene, da capire, da capire quando avremo gli spazi per colpire, per affondare, da capire quando dovremo palleggiare e magari cercare di far correre un po' di più i nostri avversari e da capire soprattutto nella fase di non processo palla quando essere intensi, aggressivi e alti e quando invece è il momento di aspettare, quindi secondo me l'aspetto più importante per domani è proprio la lucidità, la lucidità dal punto di vista tattico delle scelte da fare in campo. Area Fabio Conte Ciao Stefano Ciao Quella di primavera era una Juve un po' conservativa che cercava di chiudere il campionato che in quel momento era anche molto strano, adesso ci siamo un po' abituati Quella di domani invece vuole rientrare nel gruppo, quale secondo te è la Juve più pericolosa? Quella di domani è la più pericolosa perché è quella che affrontiamo, quello che è stato è stato, per noi era stata una vittoria importante, continuo a dire, per farci crescere l'autostima e la fiducia e la convinzione, però il passato è passato, adesso conta solamente domani, noi conosciamo bene i nostri valori, le nostre possibilità e abbiamo grande rispetto ad un avversario molto forte. Adesso chiudiamo con Carlo Pellegatti, se c'è, ecco Ticano Sì, certo, buon pomeriggio Stefano, una domanda su piano personale e una sulla squadra Sulla squadra, Milan batte 4-2 la Juventus, qual è la più grande differenza e qual è la più grande somiglianza tra quel Milan e questo Milan? Sul piano personale, tre anni nella Juventus, hai vinto campionato Coppa dei Campioni, Supercoppa UEFA e Coppa Intercontinentale, cosa ti è rimasto dentro di quei tre anni anche da allenatore? Credo che la partita del campionato scorso sia stata comunque, va presa come esempio per far capire alla squadra che le partite non finiscono mai, perché noi eravamo sotto nettamente di due gol e in pochi o nessuno avrebbe pensato che noi potevamo ribaltare il risultato, e invece la capacità di stare dentro la partita, la capacità di approcciare la partita in un certo modo con certe idee e portarle avanti per 95 minuti ti dà sempre la possibilità di tornarci dentro e di poterle risolvere, questo è un insegnamento che ci stiamo portando avanti, che la squadra ha recepito, che la squadra ha fatto suo, ha fatto tesoro di queste esperienze, quindi è una squadra che ci crede sempre e questo è un aspetto importantissimo che dobbiamo assolutamente conservare e possibilmente ancora di più migliorare, per quanto riguarda la mia esperienza a Juventus, sono arrivato a Juventus che è un ragazzo, 18enne, dalla provincia, ricciolone, cappelluto, sono entrato dentro uno spogliatore di uomini, di grandi uomini, di grandi uomini che mi hanno insegnato tanto, di esempi, è difficile fare dei nomi singoli, ma non so, Sirea, Tardelli, Paolo Rossi, insomma, Cabrini, quindi ne sono uscito sicuramente molto più adulto, molto più maturo e con degli insegnamenti importanti per la mia crescita professionale, chiaramente molto più rivolta a quella da calciatore che però poi ti rimangono dentro certe cose, certi valori ti rimangono.